un colorato viaggio tra artisti scrittori ed operatori culturali tra ricordi amori passioni qualche stranezza e colpo di scena il cibo come una galleria di ricordi un'antologia che richiama sinestesia di luoghi di persone di affetti piccole storie di arte di cucina di ingredienti e di vino vissute nelle terre del mondo arte in bocca 2023 attenta all'evolversi dei tempi recepisce l'istanza iconografica del cibo nobilitandola grazie a tutti